In appena 5 anni di vita, rinascita a Basket Rimini è passata dalla serie C-Gol dei play-off a dia 2, facendo innamorare nuovamente la città dello sport della Pala Spicchi. Il giornalista Alberto Crescentini, già autore di Rimbalzi, nel quale aveva raccontato la storia del Basket Rimini, ha dedicato un nuovo libro alla Pala Canestro Cittadina, facendo rivivere in modo leggero ma puntuale cifre, personaggi e partite di questo lustro di successi. RBR Che Lustro 2018-2023, dalla C-Gol dalla 2, edizione Il Ponte Rimini, si avvale anche dell'importante contributo fotografico di Nicola De Luigi Alfio Sgroi. La presentazione al Museo della città di Rimini, alla presenza del presidente di RBR Paolo Maggioli e dell'assessore allo sport del Comune di Rimini Moreno Maresi. Ho pensato che fosse opportuno fermare un attimo il tempo e raccogliere questi 5 anni, peraltro tutti nel segno positivo e su carta, alla quale sono ancora molto affezionato. 5 anni dove possiamo annotare due promozioni, un playoff in a 2 e gli unici due anni dove non c'è stato niente di ragguardevole è stato solo perché il maledetto Covid ha fermato prima tutti e poi solamente noi alla vigilia di una semifinale. Penso che fosse importante ricordare questa fase e anche il titolo ha un doppio senso perché il lustro può essere inteso sia come periodo temporale, 5 anni, sia come che bellezza, che belle cose che sono successe appunto in questo quinquennio. Un aneddoto o una partita da ricordare? Secondo me sono state partite chiave, ne citerei due, perché nel durissimo playoff, semifinale playoff per venire in a 2 contro Faenza, Rimini si trovò ad affrontare la trasferta dal palla Cattani su una situazione di 1 a 1, situazione scomoda che ti obbligava a vincere almeno una partita in trasferta per riportare quantomeno la serie a Rimini in gara 5. Bene, furono due partite incredibili, due partite nelle quali nessuna delle due bastarono 40 minuti per avere un verdetto. In una gara addirittura ci furono due tempi supplementari e in 1 a 1. Le due squadre giocarono contro così 95 minuti e tutte e due le gare le portò a casa Rimini. Non a caso ho preso una fiducia incredibile verso poi quella finale con Roseto che si sarebbe rivelata addirittura più semplice forse della semifinale con Faenza. Possiamo considerare questo libro un sequel di Rimbalzi in cui raccontate invece la storia del basket Rimini? Ma sì, parzialmente sì, nel senso che Rimbalzi proprio è uscito nel 2012 e ha voluto fare il punto su qualcosa come 80 anni di storia della palacanessa riminese, dei primi pionieri che andavano a giocare con le pallonesse e i campi all'aperto, ai giorni nostri attraversando appunto a 1, a 2, a retrocessioni, promozioni, gioie e dolori. Poi rimarrebbero altri 6 anni di Serie B dal 2012-2018, delle quali francamente non c'è tantissimo da ricordare, dal punto di vista emotivo né di quello dei risultati, con addirittura una conclusione amara con una retrocessione in C. Poi questo cambio di rotta, questa nuova dicitura, nuova società, che poi insomma c'è quella rinascita in più, che di fatto perché è sempre basket e Rimini parliamo, e in questi 5 anni sono successi tante belle cose, la speranza, l'augurio è magari ritrovarci nel 2028, che magari faccio il secondo lustro e magari è andato bene pure quello. Grazie a tutti.